L'attrice, dopo aver ricevuto il premio, New Generation, ha lanciato un potente messaggio contro il maschilismo, la violenza di genere, il potere, i social media e le fake news. Esther Exposito, celebre attrice della serie, Elite, ha lanciato un messaggio potente contro le critiche sul suo aspetto fisico. Sul palco dei Bazar Women of the Year 2024, dopo aver ricevuto il premio, New Generation, l'attrice ha approfittato del momento per condividere parole di incoraggiamento rivolte a chiunque si senta ferito dai commenti sul proprio corpo. In un discorso sincero, Exposito ha invitato il pubblico ad accettare e celebrare i cambiamenti naturali del corpo, rifiutando l'idea che si debba conformare a standard estetici rigidi o artificiali. Un messaggio per le donne. La giovane attrice spagnola, amata dal pubblico e nota per la sua bellezza, ha raccontato di come i social network, spesso, alimentino un'immagine distorta della bellezza. Rivolgendosi alla platea, Exposito ha detto. Che ci crediate o no, anche noi donne, come gli uomini, cresciamo, cambiamo, ingrassiamo o dimagriamo e meno male, perché questo significa che siamo vive e che non siamo bambole. Esther Exposito agli haters. Nessuno dovrebbe giudicare il corpo altrui. Nonostante la sua popolarità, nemmeno Exposito è immune ai giudizi pungenti dei, leoni da tastiera, che, negli ultimi mesi, hanno spesso criticato il suo aspetto fisico. Dopo la partecipazione al programma, La Revuelta, lo scorso ottobre, i social media si sono riempiti di commenti negativi che accusavano l'attrice di aver ricorso eccessivamente alla chirurgia estetica. In risposta, Exposito ha lanciato un appello a rispettare il corpo altrui. Non si esprime, tanto meno pubblicamente, il proprio parere sul fisico di un'altra persona. Critiche sociali, dai social network alla violenza di genere. Nel suo intervento, l'attrice ha affrontato anche altre tematiche sociali, come le fake news e la violenza di genere. Exposito ha criticato l'uso distorto dei social media che promuove standard irrealistici, incoraggiando invece la consapevolezza e l'accettazione di sé. Con il suo messaggio ha voluto ispirare non solo le donne ma chiunque subisca critiche o pressioni a causa del proprio aspetto, dimostrando ancora una volta di essere una voce influente e sensibile nel panorama dello star system attuale.